Ciao a tutti, sono Arianna della libreria, giunti al punto della stazione di Bologna. Oggi vi presento tre raccolte di racconti horror per Halloween. Allora, scomodo dei mostri sacri, appunto. Prima di tutto, Lovecraft, i taccuini di Randolph Carter. Allora, questa raccolta qui la consiglio a chi in realtà di Lovecraft ha già letto qualcosa, perché Randolph Carter è letteralmente l'alter ego letterario di Lovecraft. Infatti il suo nome si scrive con le lettere del nome Howard Philip Lovecraft. E Randolph Carter è uno scrittore a sua volta, quindi sostanzialmente qui Lovecraft fa un po' un manifesto della sua scrittura. Inoltre questo è un horror più onirico e quindi più particolare. Secondo, ovviamente, Stephen King. A volte ritornano. Questo lo consiglio a chi di Stephen King non ha ancora mai letto nulla e vuole approcciarsi al genere. Perché? L'autore fa riferimento ad un immaginario mostruoso che ci è più vicino, se pensiamo all'horror. Ma il tema è tutto sulla paura, sulla paura tavica e personale. Ultimo, per gli amanti dei vampiri, Draculea. Una raccolta spettacolare di racconti molto più dedicati alla tradizione popolare, che quindi ti fa vedere qual è l'origine del mito del vampiro. Grazie. Grazie.